il giorno e la storia oggi è il 25 febbraio 1873 nasce enrico caruso 1956 khrushchev chiude i lavori del ventesimo congresso e corso 1964 cassius clay è campione mondiale dei pesi massimi commenta il fatto del giorno virman kusenza direttore del messaggero alberto sordi ovvero lo specchio del paese grazie